buonasera a tutti ragazzi come vi avevo promesso ancora un po di giorni fa eccomi qui a parlarvi dell'armonica suzuki folk master questa armonica come vedete questa è la confezione di plastica marrone con la scritta folk master tenol diatonica armonica e questa è in do qui è indicato c con l'annotazione anglosassone ed è una custodia comoda anche da tenere in mano carina e soprattutto più piccola anche delle custodie owner bene andiamo ad aprirla rieccoci qui allora e per aprirla basta premere il pulsantino che c'è qui aprendola abbiamo l'armonica che è protetta da una carta velina e poi abbiamo anche le istruzioni allora vediamo se facciamo se riusciamo a far scendere le istruzioni e dopo passiamo all'armonica le istruzioni scritte in inglese e sono delle istruzioni abbastanza semplici adesso qua si vedono le immagini di spiegano come tenere l'armonica la tecnica appunto del toni blocking e anche del la tecnica insomma quella più tradizionale dove le labbra si mettono come se uno stesse fischiando e poi appunto è spiegata un po la scala le varie ottave che sono presenti in un'armonica diatonica e poi c'è anche una sezione riguardante degli effetti qua parlano di altri modelli e ripeto che questo comunque è un modello di armonica suzuki ma prodotta in cina made in cina quindi è una versione forse la più economica dei modelli della suzuki che è giapponese e vediamo che qui allora parlano degli effetti come il vibrato il pitch bending che credo sia il bending quindi si parla di tecniche di gola e poi anche con la lingua poi parla appunto della di come si suona nello stile blues con la cross position quindi per esempio con un'armonica in do noi possiamo suonare direttamente su brani in do quindi in prima posizione oppure brani in sol in seconda posizione per i brani blues diciamo e poi qua vediamo a parte che qua c'è tutta la tabella che è molto utile e anche ben fatta per capire appunto che armoniche ci servono per suonare il blues in determinate tonalità qui spiegano come avere cura dell'armonica come pulirla cosa evitare di fare e qua abbiamo appunto tutte le dodici tonalità con alcune anche in A e G e low F quindi sol alto e fa basso e praticamente sono indicate tutte le note soffiate e aspirate che si possono ottenere direttamente soffiando e aspirando dalla nostra armonica quindi se si aspirano più fuori si ottengono gli accordi se si soffiano o si aspirano fuori i singoli si ottengono le note allora scartiamo l'armonica io comunque ho voluto tenere lo stesso questa velina protettiva abbiamo l'armonica da folk master questa è made in cina vediamo dove è la scrittina made in cina eccola qua anche se non si mette a fuoco questa è come vi dicevo in do e vediamo che è scritto con un carattere dorato c'è scritto folk master sul retro c'è scritto si intravede la s di suzuki e c'è scritto highest quality m suzuki che è appunto il fondatore della della ditta giapponese suzuki e bene per quanto riguarda i cover plates cioè questi quelli che sono appunto come potete vedere anche in maniera molto elegante sono intarsiati intarsiati ovviamente industrialmente non a mano sennò costerebbe uno sproposito però diciamo che esteticamente fa il suo effetto infatti a me è sempre molto attirato proprio l'estetica di questa armonica che si avvicina appunto alla marine band però con un look un po' più personale anche sul retro è abbastanza differente inoltre abbiamo queste due barrette di metallo che servono ad evitare per gli armonicisti un po' più forzuti che magari hanno una presa sull'armonica abbastanza forte e stretta di piegare i cover plate cioè il metallo delle cover e l'armonica di per sé è abbastanza curata passiamo comunque al suono allora come suono me la faccio sentire ha un suono tutto suo particolare diverso dagli altri modelli che ho in possesso on airside non posso paragonarla con altri modelli suzuki che sicuramente saranno un po' superiori però al suo carattere cosa posso dire sicuramente non può essere paragonabile a armoniche di prezzo intorno ai 50 euro che poi per carità anche quelle può capitare che presentino dei difetti tutto può essere però siamo su una qualità nettamente superiore diciamo che per chi ha bisogno di armoniche di ricambio quindi di riserva se magari ne utilizza una in particolare e questa durante una serata che non solo ci spezza un'ancia oppure presenta dei problemi può esserci su modelli che si avvicinano come forma che possono essere le marine band come dicevo un utile ricambio, un utile riserva senza spendere un patrimonio perché è intonata, anzi direi che viene citata un'accordatura a laser però non vorrei dire cavolate perché alcuni dicono che si è a laser come in modelli un po' più costosi altri dicono no è accordata a mano sta di fatto che a laser oppure no è molto intonata più intonata per esempio di una big river che ho vi faccio sentire appunto le note soffiate ad ottave per farvi sentire che l'accordatura è molto buona ecco potete sentire che i battimenti sono praticamente quasi assenti o comunque molto lievi quindi vuol dire che scusate che l'accordatura è notevole è stata fatta bene insomma tenendo conto che è appunto un'armonica economica la nota dolente come stavo dicendo è che non è proprio la tenuta d'aria non è proprio delle migliori perché non tanto sulle note basse ma su quelle alte il suono per carità esce bene non è un'armonica dal volume molto alto devo dire però che andando diciamo sull'ultima ottava quindi sulle note alte suonano bene comunque però la quantità di fiato necessaria è un po' elevata cioè vi faccio sentire soprattutto sull'ultimo sull'ultimo foro bisogna soffiare un po' di più questo perché la tenuta d'aria non è proprio perfetta adesso io qua non riesco a farvelo vedere però guardando da vicino si vede che il read plates superiore specialmente è un po' piegato probabilmente da una pressione un po' eccessiva delle viti che assicurano i read plates al comb e quindi porta ad avere una fessurina dove ci può essere un po' di perdita d'aria la perdita d'aria fa sì che il fiato che l'armonicista mette per far uscire le note o anche per aspirare insomma per le note aspirate sia superiore quindi è un'armonica che può stancare un po' di più però dico io parlo di questa poi quando mi arriverà quella in fa che è ancora più alta quindi potrebbe essere anche più impegnativa vi farò sapere che appunto la qualità su queste armoniche economiche come anche altri strumenti economici è un po' altalenante uno si può ritrovare con un strumento ottimo e magari prendere un'altra persona ne compra un altro stesso modello stessa marca uguale identico però con dei difetti e questo purtroppo un po' l'handicap secondo me come mio modesto parere perché non voglio denigrare nessun tipo di produzione è un po' l'handicap della produzione cinese dal canto mio ho voluto fare una recensione un po' più approfondita sempre da profano perché vi dico è un anno che io suono l'armonica ed autodidatta quindi sicuramente ci sono persone più formate di me però siccome mi sono arrivate queste nuove armoniche ho speso poco 13 euro dal venditore su ebay dalla cina itz itz se magari volete andare a dare un'occhiata per arrivare a quanto prima anche se i tempi di spedizione sono un po' lunghi dalla cina l'armonica in fa quindi avrò un'armonica in fa di tonalità quindi alta e un'armonica in do intermedia da utilizzare come backup della marine band quindi spero che questo video vi sia piaciuto spero di non avervi annoiato troppo spero che abbiamo visto custodia, carta protettiva, armonica, istruzioni abbiamo visto un po' di tutto di questo modello che è la suzuki folk master ciao a tutti come sempre buone suonate con le vostre armoniche e buon proseguimento ciao ciao